Buonasera a tutti e a tutti. A tutti coloro che sono in questa aula, siamo nella sala del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto e a tutti coloro che ci seguono attraverso la tenda TV che ringrazio per voler essere stata qui oggi a testimoniare questo momento importante di crescita democratica per la nostra città. Oggi infatti vi do qualche informazione di Massima prima di procedere poi all'insediamento del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi della scuola media da Ponte. Vi do prima alcune indicazioni per spiegare soprattutto a chi non è del mestiere perché siamo qua oggi e come siamo arrivati a questo momento così importante e significativo per la scuola e per la città tutta. Allora il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi è stato proposto dalla scuola media da Ponte, dall'Istituto Comprensivo 1, in particolar modo appunto dalla scuola media da Ponte, che ha chiesto e ottenuto la collaborazione del Comune che ha messo a disposizione la propria assistente sociale e le educatrici che per noi collaborano, le educatrici della cooperativa Itaca che con noi collaborano in appalto, per mettere in piedi questo che è un vero e proprio percorso alla cittadinanza, alla rappresentanza, un percorso di cittadinanza attiva. Cosa significa? Che questi ragazzi presenti oggi hanno lavorato con il supporto degli adulti significativi che li hanno accompagnati, quindi da un lato, come vi dicevo, le educatrici e l'assistente sociale, dall'altro ovviamente i loro insegnanti e, come poi vi dirà la dirigente scolastica, tutte le classi sono state interessate da questo percorso, tutte le classi della scuola media, quindi un percorso che ha coinvolto tutti i ragazzi e le ragazze e tutti i loro insegnanti che ovviamente sono stati una parte attiva, propositiva ed importante del percorso. Quindi si è messa in piedi quella che mi piace chiamare una palestra, cioè un luogo, diciamo non fisico ma immaginario, ideale, dove i giovani si sono allenati a partecipare attivamente alla vita di una comunità, in questo caso la comunità e la comunità scolastica. Se pensiamo al Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze come ad una palestra, dobbiamo pensare che in questa palestra gli obiettivi sono stati proprio le e saranno anche le idee che loro porteranno avanti, quindi saranno propositivi nei confronti della loro classe, della loro scuola, ma possibilmente anche della comunità tutta, ovviamente relativamente agli interessi che possono avere dei ragazzi della vostra età, e gli attrezzi di questa palestra sono le loro idee, le occasioni di confronto che ne sono nate e che ne nasceranno. Cosa vuol dire? Che loro hanno imparato, stanno imparando ed impareranno a lavorare insieme, innanzitutto a formulare un'idea, a formulare un pensiero, ad esprimerla, ad esprimerla anche pubblicamente. Quella di oggi è una prova comunque importante per loro, perché parleranno di fronte alla città, esporranno il loro programma di fronte alla città. E poi impareranno sempre di più, come ben sappiamo noi che qui dentro ci confrontiamo regolarmente, a proporre un'idea, a confrontarsi, ad accettare anche che la propria idea possa essere contestata da qualcun altro. Quindi impareranno anche ad accettare, per così dire, la non accettazione delle idee da parte degli altri. Non voglio dire la sconfitta, perché non è mai una sconfitta, ma il fatto che ci possano essere delle persone, dei compagni e delle compagne, che non la pensano lo stesso modo. In questo è molto importante l'esperimento e il progetto, perché si tratta proprio di imparare a vivere in un piccolo contesto, come può essere la scuola, la classe o anche la scuola intera, e vivere all'interno di un set di regole, che ci devono essere se vogliamo andare d'accordo, dove esercitare certamente il proprio pensiero, certamente i propri diritti, ma anche i propri doveri, e dove si impare, credo che oggi in questo momento storico sia importantissimo, ad accettare l'idea di chi non la pensa come te. Quindi è senza dubbio un esperimento molto concreto di crescita reale. Bene, cosa hanno fatto concretamente? Hanno lavorato appunto in classe con i propri insegnanti e con gli educatrici, in un percorso che li ha portati poi a presentarsi, ad offrirsi per far parte di questo Consiglio Comunale, hanno presentato il proprio programma, ci sono state delle vere e proprie lezioni in tutte le classi, sono riusciti ad arrivare ad una rappresentanza diffusa attraverso le prime, le seconde e le terze, per cui nel Consiglio Comunale odierno, che è composto da 13 ragazze e ragazzi, ci sono ragazzi di prima, di seconda e di terza media, che rimarranno in carica per due anni. All'interno di questo Consiglio Comunale hanno poi eletto la propria giunta, il proprio sindaco e il proprio vice sindaco, che poi verranno ufficialmente, si vedranno ufficialmente insediati. Bene, a me corre l'obbligo ovviamente di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, di questo primo step di progetto, perché da oggi in poi questo Consiglio Comunale andrà regolarmente a lavorare. Il ringraziamento non lo faccio perché è consueto farlo, ma perché credo che i ragazzi debbano rendersi conto che qualsiasi obiettivo si voglia ottenere ha bisogno del lavoro di tante persone. Come dicevo prima all'entrata, anche solo per entrare, ci vuole qualcuno che sia venuto qui oggi, che siamo in un orario strano ad aprire la sala, ad accendervi le luci, il riscaldamento, che controlli che tutti abbiamo la mascherina, che abbiamo il green pass, eccetera. Nello stesso modo ci sono state persone, quindi i vostri insegnanti, educatrici, persone di cui di solito si dà per scontato il lavoro, che invece si sono impegnati in un lavoro straordinario, proprio per permetterci di essere qui oggi e di continuare questo percorso. Anche la parte della segreteria del sindaco, che normalmente non si occupa di questo tipo di problemi, eppure ci sono state delle persone che hanno lavorato per voi e per noi, e questo è molto importante da dire. Quindi a loro tutti va il nostro ringraziamento. Ovviamente è giusto ringraziare la preside in rappresentanza della scuola, la dirigente scolastica, con gli insegnanti tutti che hanno partecipato, e direi anche il Consiglio d'Istituto, quindi anche la parte dei genitori, che ha sottoscritto questo percorso, che è un percorso assolutamente nuovo anche per la vostra scuola. Grazie anche alla Tenda TV, che ha voluto essere qui a darvi la giusta visibilità in città, e ringrazio ovviamente i colleghi consiglieri veri, scusate il termine, cioè adulti, che sono qui presenti oggi, la collega di giunta, il Presidente del Consiglio, Paolo Sant'Antonio, e ovviamente il Sindaco Miatto, che poi ha per voi anche un piccolo presente, un piccolo regalo. Ecco, quindi io lascio la parola al nostro Sindaco Tony Miatto. Grazie. Buongiorno a tutti, ben arrivati signori, non dico ragazzi, dico signori, perché bisogna anche dare un po' di più significato alla giornata, a questo momento, perché è un momento che vi rappresenta come cittadini impegnati in questo percorso che avete iniziato. Io mi associo ai ringraziamenti che l'assessore Caldart ha già fatto, perché devo ringraziare tutto il corpo docente per l'impegno profuso nel percorrere questa nuova via, perché io ricordo che ai miei tempi a scuola, ogni anno, si comprava il libro di educazione civica, che rimaneva ogni anno praticamente in tonso, perché materia non trattata è stato un male, perché ci accorgiamo bene come per molta parte della popolazione la cosa pubblica sia cosa percepita come cosa di nessuno, invece, la cosa pubblica è cosa di tutti e quindi tutti devono essere impegnati nel gestirla al meglio, o partecipando direttamente alla sua amministrazione, come nella forma comunale che stiamo vi mando, ecco la realtà, ma anche come comportamento normale dei cittadini, che deve essere conscio dei meccanismi che regolano la cosa pubblica e apportare e dare il suo contributo nella gestione migliore, nell'uso migliore di quello che il pubblico mette a disposizione dei cittadini. Quindi un ringraziamento anche a voi che avete seguito attentamente, Attentamente immagino con profitto il vostro corpo docente che vi ha guidati e oggi ci troviamo qua. Questo è il punto più sacro di un'amministrazione comunale, è il punto in cui i cittadini si vedono rappresentati dai consiglieri da loro scelti e questi consiglieri lavorano per il meglio, per dare il meglio alla propria città, ciascuno apportando le sue idee, le sue proposte, che si contrappongono gli uni alle altre in un processo democratico che alla fine vede prevalere una maggioranza e questa maggioranza, nell'espressione del voto, decide di come meglio fare le cose. Voi siete stati eletti dai vostri compagni, oggi li rappresentate tutti, dovete sentirvi questo compito, cioè non siete voi come singola persona, ma singola persona che rappresenta gli altri, quindi attenta, ciascuno di voi deve essere attento a quello che percepisce dai suoi elettori e rappresentarlo al meglio in questo posto qua, con i consigli, con il voto, da parte di consiglieri più operativo per gli assessori, i quali devono tradurre poi in pratica, assieme al vostro sindaco, quello che sarà il riassunto del vostro operare. Le norme che regolano la vita civile e la vita amministrativa sono molteplici, sono davvero numerose, è anche complesso, certamente non è il momento per descriverlo, lo imparerete un po' alla volta, però tutto fa capo a una norma principale fondante, che è, noi la chiamiamo la Costituzione. Prima la nostra Costituzione, quando c'era la nostra Repubblica, avevamo la promissione del Doge, sempre un atto costitutivo basilare, che tutte le norme inferiori dovevano comunque seguire. La stessa cosa è per la nostra Costituzione, è stata promulgata nel 1947, è ancora vigente, è protetta da possibili variazioni con meccanismi assai complessi per essere cambiata, e quindi per cambiare quello che c'è scritto dentro nella Costituzione bisogna che sia a larghissima maggioranza, diciamo così, la volontà di cambiarci qualcosa, e quindi è un testo fondante sul quale tutto l'operare, tutte le normative, devono far sempre comunque riferimento per rispettarla. E quindi con soddisfazione che ve ne darò una copia a ciascuno. Non sono tantissimi momenti di soddisfazione per i sindaci, eh, ve lo dico subito, c'è tanto da lavorare, molta amarezza, la difficoltà di essere capiti alle volte, o essere, di vedere condiviso il proprio pensiero, però tra questi momenti di soddisfazione, ve lo dico di cuore, questo è uno dei maggiori momenti di soddisfazione. Quindi è con soddisfazione che vi darò la Costituzione. Bene, allora chiamiamo ora uno per uno i consiglieri comunali, a cui il sindaco consegnerà la Costituzione con annessa anche una dedica personale. Quindi... Vieni, Nicolás. Dimitri? E poi abbiamo Giulia. Abbiamo anche delle consigliere, perché nel regolamento sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi era prevista anche le pari opportunità. Quindi Giulia. Piero? Piero? Infatti si chiama Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Rispettato le riquote? Abbastanza. Nico? Poi il Presidente del Consiglio dirà nome e cognome. Nico? Sofia? Federico? Non c'è, vero? Federico è a casa per i soliti motivi, ma glielo faremo avere. Allora c'è Letizia? Giacomo? Giacomo? Martino? Martino? Noemi? Monica e Marta Bene, allora cari ragazzi, benvenuti nel Consiglio Comunale di Vittorio Veneto. Allora, prima di iniziare questa simulazione, vi dico, mi presento, chi sono? Sono Paolo Sant'Antonio, il Presidente del Consiglio Comunale. Che cosa fa il Presidente del Consiglio Comunale? Molto velocemente, perché probabilmente ve lo hanno già spiegato. È un Consigliere Comunale, quindi uno dei sedici. Il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto è formato da sedici consiglieri che ha un compito in più rispetto agli altri consiglieri che è quello di gestire il Consiglio Comunale che significa dare la parola ai vari consiglieri, toglierla, controllare il numero di interventi. Sono un po' le regole descritte all'interno del regolamento di questo libricino. È come se fosse, per fare dei paragoni, una partita di calcio, dove voi sapete, o di pallavolo, dove ci sono delle regole che ognuno deve rispettare. Queste sono scritte all'interno di questo libricino ed ogni consigliere deve rispettarle. Passo ora alla fase, diciamo così, operativa e alla simulazione del Consiglio Comunale. Quindi è convocato oggi, ed è quello che faccio all'inizio delle sedute, è convocato oggi, 10 marzo 2022, un Consiglio Comunale dei ragazzi della Scuola Media da Ponte dell'Istituto Comprensivo di Vittorio Veneto. Allora, chiamo, di solito si fa l'appello, chiamo i consiglieri comunali, i quali normalmente dal banco rispondono con un'alzata di mano. Adesso mi pare che voi veniate qua o dopo, dopo. Allora chiamo i consiglieri comunali eletti da questo Consiglio Comunale. Federico Basso, presente, c'è Federico Basso? È quello che manca, buon, perfetto, partiamo bene. Allora, Letizia Urighi, presente, Giacomo Brun, presente, Martino Damiani, presente, Noemi Frassinelli, presente, Monica Marin, presente, Marta Misco, presente. È la stessa cosa che fate durante l'appello in classe. Allora, sono stati eletti i consiglieri, gli assessori, Assessore alla solidarietà, gentilezza, amicizia e sociale, Sofia Scatolini, perfetto. Poi, è stato eletto, se vieni qua, ti siedi magari anche qua. Assessore all'ambiente, Nico Paine, prego Nico. Assessore allo sport e al tempo libero, Piero Meneghin, Assessore alla cultura e all'educazione civica, Giulia Frassinelli, prego Giulia. E poi, è stato eletto, vice sindaco, Dimitri Restiotto, prego. E poi, è stato eletto il sindaco, Nicola, Nicola Corrocher. Prego, Nicola, siediti qua. Allora, prima di lasciare la parola al sindaco, cari ragazzi, ho visto, con molta, ho preso atto, che è stata consegnata alla Costituzione italiana. Qui, chiedo ai vostri insegnanti, no, l'opportunità che vi leggano ogni tanto qualche articolo della Costituzione, che è molto importante, ed è l'elemento fondante, no, dell'Italia. Allora, all'ultimo minuto, per non essere da meno del sindaco, della Giunta, perché il sindaco e l'assessore fanno parte della Giunta, cioè della, quell'entità che gestisce la città, per non essere da meno della Giunta, che vi ha donato la Costituzione, io, come presidente del Consiglio, e a nome di tutti i consiglieri, vi faccio dono di un libricino, che chiedo anche a voi, anche ai professori, che vi consegno, che è stato fatto nell'anno del centenario, dal club del touring italiano, sulla città di Vittorio Veneto. Qua dentro troverete tutti i monumenti, la cultura, tutte le cose importanti che ci sono a Vittorio Veneto, i musei, che vi esorto con i vostri insegnanti di andare a visitare. Qua abbiamo anche l'assessore alla cultura, quindi, allora, ve ne do uno per uno, e questo è il dono del presidente del Consiglio. Ecco, se ne dai uno a testa, ecco lì qua, vi do queste guide, che sono molto interessanti. Bene, lascio la parola al sindaco per l'investitura della fascia del sindaco. nessuna fascia di poi e poi la... ecco qua. voglio passare in troppo. Ecco qua. Ecco qua. Buongiorno a tutti, mi chiamo Nicola Scroker, ho 12 anni e frequento la classe 2D presso la scuola Lorenzo da Ponte. Sono il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Innanzitutto vorrei ringraziare il Sindaco, la Giunta e tutto il Consiglio Comunale di Vitario Veneto per questo bellissimo progetto che speriamo noi del CCR di portare avanti nel migliore dei modi. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i nostri compagni di scuola che hanno creduto in noi e ci hanno permesso di essere qui oggi. Mi sono candidato perché mi incuriosiva questa idea e credevo di essere la persona giusta, ma anche perché volevo far sentire la mia voce e le mie idee e soprattutto volevo mettermi in gioco. Penso che il CCR possa essere un'opportunità per migliorare la nostra scuola sentendo il parere dei ragazzi, perché chi meglio di noi studenti può sapere come migliorare il posto dove impariamo, incontriamo gli amici e soprattutto cresciamo. Penso anche che il CCR come gruppo possa rappresentare un'opportunità per imparare a discutere, ad accettare che a volte le nostre idee possano non essere apprezzate da tutti o che non siano le migliori in quel momento. Penso che sia anche un'opportunità di crescita, perché facendo parte di un gruppo si diventano anche più maturi. Ora vorrei presentarvi la giunta e i consiglieri del CCR. Come vici sindaco Dimitri Restiotto, come assessore all'ambiente Nico Pein, come assessore allo sport e tempo libero Piero Meneghin, come assessore alla cultura ed educazione civica Giulia Frassinelli, come assessore al sociale Sofia Scattolin, come consiglieri Federico Basso, Letizia Orighi, Giacomo Brun, Martino Damiani, Noemi Frassinelli, Monica Marin e Marta Misco. Nei nostri primi due incontri abbiamo sviluppato alcune idee per i nostri due anni in carica. Le principali, Olimpiadi sportive, una giornata di fine maggio dedicata allo sport e al divertimento, un concorso artistico per creare il logo del CCRR, una giornata ecologica, il Green Day, dedicata alla pulizia dello spazio scolastico e o della comunità. Infine, noi del CCRR vorremmo esprimere vicinanza a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo a causa della guerra, sperando si possa arrivare al più presto alla pace, perché le fondamenta dell'umanità sono la pace e la libertà. Per questo, con il sostegno dei nostri compagni ed insegnanti, vorremmo impegnarci ad accogliere tutti i ragazzi che avranno bisogno di frequentare la nostra scuola e cercare di farli sentire a casa. Grazie a tutti. Passo la parola alla dirigente scolastica, professoressa Di Paolo. Di Paolo. Prego, professoressa. Grazie. Volevo fare i miei complimenti al sindaco, al sindaco dei ragazzi, per le parole che ha espresso, le idee che ho visto già ben delineate in queste prime due riunioni che avete avuto, ed anche per il pensiero, per il pensiero alla guerra, che ci sta dando preoccupazioni, non solo a voi ragazzi, perché mi hanno detto i vostri docenti che ne parlate, ma anche a noi adulti. Quindi complimenti. Complimenti agli assessori, complimenti ai consiglieri. Volevo anche io ringraziare il sindaco, l'assessore alle politiche scolastiche, Antonella Caldart, il presidente del Consiglio, tutta la giunta, i consiglieri che sono qui. È importante. Il sindaco ha detto alcune parole. La cosa pubblica è cosa di tutti. È qualcosa che anche io ho detto ultimamente nelle classi. Sono... Molto spesso loro mi vedono entrare nelle classi e magari dire e ricordare alcune cose. Questa l'ho ricordata ultimamente. E proprio perché è cosa di tutti. La nostra scuola ha voluto, proprio l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, i nostri docenti e tutte le classi si sono date anima e corpo proprio per svolgere al meglio questa funzione e arrivare all'obiettivo, all'obiettivo che ci eravamo preposti. È una scelta educativa e didattica innovativa che abbiamo voluto fare. Perché quando l'assessore dice una palestra di cittadinanza attiva e quando il sindaco ha detto un libro che non viene mai aperto, ecco, noi vogliamo aprire questo libro, ma non vogliamo soltanto aprire il libro. Vogliamo far sentire, vogliamo portarli fisicamente all'interno delle istituzioni. Vogliamo farli confrontare fra di loro, fra loro, fra loro e i docenti, loro e adulti, magari anche con il sindaco, se ce ne sarà l'opportunità. È un'occasione importante, è un'occasione importante quando abbiamo detto quindi che le idee per una nuova città nel futuro forse ce le potranno dare proprio i ragazzi, che questo futuro abiteranno, lo abiteranno loro, quindi ci daranno magari alcune indicazioni. Io mi aspetto da voi alcune indicazioni, ragazzi. Voi sapete che io accolgo, accolgo sempre le vostre richieste. Anche la Giunta le accoglierà sicuramente se si potranno realizzare. Le Olimpiadi, l'idea è buona. Il concorso artistico, ottima idea. Ma anche la pulizia, la pulizia di un ambiente scolastico, ma anche un luogo della città, magari, che noi potremmo prendere in custodia, come consiglio. Sicuramente, ottime idee. Questo momento, questi due anni, vi aiuteranno anche a comprendere che le idee sono diverse. Ognuno ha una sua idea. Bisogna accettare l'idea dell'altro. Alcune volte bisogna riconoscere anche che è migliore della nostra. Questo ci aiuta. In questo ci aiuta questo momento di cittadinanza, questa palestra di cittadinanza. In questo senso, dobbiamo anche cominciare a pensare alle parole che utilizziamo nel rapporto con gli altri. Io parlo sempre di rispetto, ma in questo caso parlo anche di comunicazione. Quindi comunicazione che, vi ricordo, non deve essere mai una comunicazione ostile. La comunicazione deve essere una comunicazione aperta. Deve essere una comunicazione gentile. Abbiamo infatti anche un assessore dedicato proprio a questo, alla comunicazione. quindi io faccio i complimenti a tutti e ringrazio di nuovo la comunità perché questo è un esercizio attivo di comunità anche. Una comunità che si è stretta intorno, in questo caso, alla scuola e ha permesso la realizzazione di questo progetto. Quindi grazie. Grazie a tutti. Mi sembra che questo esperimento sia stata una cosa molto bella che abbiamo messo insieme. Ringrazio tutti i partecipanti, in primis i consiglieri, gli assessori giovani, il sindaco giovane, i professori, l'assessore Caldart, l'assessore Uliana, i consiglieri Varaskin, il consigliere De Antoni e speriamo che questa iniziativa possa continuare adesso con le vostre gambe all'interno del vostro istituto affinché possa effettivamente essere un seme che un po' alla volta germoglierà nel futuro delle idee non solo della città ma anche del paese. Grazie a tutti e ci vediamo. Prendetevi le guide di Vittorio e mi raccomando andate a vedere i musei. Grazie a tutti. e Grazie a tutti.